Dici di volere la libertà? Prendila! Dici di tenere i valori? Mettili su carta! Dici di non voler essere controllato ma vuoi avere tutto sotto controllo? Usa Carta Enjoy! Ci carichi lo stipendio, fai acquisti e prelevi in tutto il mondo, la usi su internet in tutta sicurezza, paghi le bollette e ricarichi il cellulare. Scegli Carta Enjoy, la carta controcorrente, e puoi vincere una Fiat 500 Cabrio! In tutte le filiali Obi-Banca. Grazie a tutti!